Ecco! Cosa preferiva lei? No, non preferisco. Io ho detto c'è una guida che sta davanti e tutto il gruppo dietro. Mi scocci di fare queste cose. Mi preferisco stare da solo a scoprire le cose da solo. Che sta guida e sta sempre costretto a seguire la guida. Va bene, va bene, va bene. Si metta qua. Francesco, Bianca, Giovanni e Antonio. Ecco, grazie. Allora il gioco è molto semplice. A turno sarete la guida del gruppo. Dovete seguire i passi, in questo caso, di Bianca. Ok, perfetto. Siete pronti? Vai Bianca, vai! Siete caldi? Vai Bianca, vai! Cazzaro, 3, 2, 1, musica! Cazzaro, 3, 2, 1, musica! Cambio, cambio! Come è bello far l'amore così. Come è bello far l'amore. Io sono pronta e... Non ti auguri, ma chi ti ha già manchia. Non ti auguri, in campagne di città. Come è bello far l'amore da Trieste. E se ti lascia... E se ti lascia... E se ti lascia lo sai che si fa. Come è bello, come è bello. Che soggetto che mi fa. Cambio, cambio! Maestro Paolo Antonio, prego. Sacco il Presidente Sacco il Presidente È Iatto! orge! Stasera tutto è... Signori, buonasera e benvenuti! Benvenuti a una nuova puntata di Ballando on the road! Buonasera, buonasera, buonasera! Benvenuti! Scusate! Scusate un attimo! Milly, torni qua! Sapete che lei è molto precisa! Può tornare qua, per favore, dovremmo andare avanti con il programma! Bene, bene, bene! Fate un applauso a Milly Carlucci, prego! Mi raccomando! Votate, votate, votate! Colicini, Colicini, Colicini! Perché noi adesso andiamo a trovare, in tutto il mondo adesso, i nostri ballerini gireremo in lungo e in largo per tutto il paese, anzi per tutto il mondo! Tu ci sei mai stato in Norvegia? No! Ah, perché dovete sapere che Milly Carlucci è stata in tutto il mondo! Veramente! Sei mai stata, che ne so, a Beirut, per esempio! Che cosa? Certo! Inquietante! Sei mai stata a Taiwan? Certo! A Taiwan! Certo! E sei mai stata a Costo Vittorio Emanuele a Caivano? Dove? A Caivano! A Caivano, certo! Certo, ci sono delle ottime scuole di danza a Caivano! Buttani! Buttani! Ehi! Com'è? A Buttani! A Buttani! C'è mai stato in Buttani? Certo, parto domani! Guarda, c'ho un biglietto, c'avevo un biglietto! Eccolo qua! Eccolo qua! Vede? Parto domani! Ah, parto domani! Da per tutto! Da per tutto, signora! Bene, adesso scendono in pista direttamente dal Giappone Soshiton Tronato! Prego! Sicuramente! Scendono in pista! La Russia! La Russia! Tina Cipollova! Prego! Prego! Poi abbiamo, abbiamo il nostro Raimondo Tutotondo! Che ballerà insieme alla nostra cicciolina! No! Prego! Che cicciolina! Questa è piattina! Per favore! Si sfideranno su quello che è una ragazza veramente molto appassionata, quella che in inglese si riprende per lo tango! Sai che ci sono parlate tante lingue? Certo, lo so! Che ho detto! In inglese dicono tango! Sì, sì! Ma in tutto il mondo credo che si dica tango! Metti in dubbio che io sappia parlare lingue? No, no, assolutamente, assolutamente! Come si dice Foxtrot in spagnolo? In spagnolo Foxtrot? Uguale! Foxtrot! Ah, Foxtrot! Come si dice Jive in kurdo? Suggeri, suggeri! In kurdo! Come si dice Jive in kurdo? Jive! E come si dice Benvenuti a Ballando con le stelle condotto da Pilar Gallucci che sono io in cinese? Non lo so! What the? What the? Primo Paolo Belli, musica, 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 musica! Bene, allora vediamo giù in assù le palette! Paolo Belli non c'è! Pregna! 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 Mannaggia, managgia, managgia! Ma parlato proprio! Pregna! Questa è un grande giusto! Le nostre Cards! Grazie a tutti.